Ricerca contro il cancro tra novità e smentite. Una cara amica mi ha inviato un sorprendente video a parte su YouTube a cura di uno o due ricercatori italiani. In questo video si parla di una nuova cura contro il cancro e nel video ho spiegato bene in che cosa consisterebbe questa nuova cura contro il cancro. Io però prima di intraprendere la strada di diffondere il video in maniera erociativa ho fatto una mia ricerca, sono andato nel mare del grande web e ho trovato un link dove si spiega che si tratterebbe di una bufala per cui io nel riassunto di questo video vi metterò il video dei due ricercatori italiani che parlano di questa nuova scoperta. Vi metterò poi il link dove si dice che questa nuova scoperta non esiste, che si tratta di una bufala o se non altro che c'è un cammino da percorrere che non è stato ancora concluso. e poi attendo anche le vostre considerazioni però voi per fare le vostre considerazioni dovrete vedere il video che io vi metto nel riassunto di questo video e anche dovrete leggere quello che si scrive in un articolo ben congegnato che dice che la notizia è una bufala. Allora cari amici, io ho già fatto tanti video relativamente a quella brutta malattia brutta malattia che è il cancro ho parlato in tanti video della chemioterapia della chemioterapia la quale chemioterapia fa guarire però non assicura che il tumore si riformi successivamente per cui ricordo sempre che il grande, il grande, il grande, grandissimo Ivan Illich grande, grandissimo Ivan Illich autore di quella opera superba che è intitolata Nemesi Medica e a un certo punto si ammalò di cancro e coerentemente con le sue idee non volle sottoporsi alla chemioterapia fece ricorso agli stupefacenti, alla morfina lasciò che il male facesse il suo corso naturale sino alla morte e qua mi fermo cari amici attendo le vostre considerazioni attendo le vostre considerazioni il Geribido si tratta di una faccenda di una faccenda molto, molto, molto scottante va bene? grazie cari amici e a tutti voi tanti saluti da Serafino Massoni grazie a tutti grazie a tutti